sto in merda ma guarda sto frangirli in merda la tua squadra è stata eliminata resti solo tu arriva in gas ehi 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 stavolta la prossima la prossima non è non 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 Ci mettiamo a ritorno terzetti, no, qua? Fisci? Che appena puoi, torna al menù che mettiamo quello a tre. Inoltre, così siamo solo noi tre. Squadra, chi abbandona? Ok. ... ... ... Qual è? Ritorno a me Quello sorco, mamma mia, manza manca l'eggio Ma io d'affanculo Grazie